Salve a tutti, benvenuti a questo nuovo episodio di Fuori dalle bolle, il podcast di Francesco Ambrosino e Federico Simonetti, con il quale proviamo a rompere le bolle pur restando fondamentalmente dei bravi guaglioni. Oggi abbiamo con noi un politico, saggista, blogger, fondatore e segretario di Possibile, cofondatore della casa editrice People, è il segretario del Beatrice Brignola, è il segretario del PD che tutti avrebbero voluto, ma che nessuno ha votato. Pippo Civati, grazie per essere con noi. È un po' sempre una semplificazione ma l'accetto. Diciamo che avevo ragione io, è brutto da dirsi, però a me stanno arrivando dei messaggi fantastici. Ma infatti noi per questo li abbiamo invitato, perché avevi ragione tu? Eh lo so. Col stanno di poi però, come si dice, si riempiono le… a volte si farciscono le sardine, diciamo, in ricette, no? Che forse dalle altre parti sono più… visto che le sardine hanno fatto una specie di capolavoro, diciamo, in giro di poche ore si sono compromesso il rapporto col PD e viceversa. Eh sì. Poi è lo stesso Zingaretti che peraltro oggi ha fatto uno scivolone che ha pubblicato Sanders nel meme. Scusate, noi andiamo in onda lunedì, ma qualche giorno fa Zingaretti ha pubblicato Mattarella che si vaccina con il meme di Sanders. Cioè io, secondo me, hanno bisogno di un amico, qualcuno che parli con loro. Sì. Ma io condivido l'idea che Duga Bizzarri ha lanciato qualche tempo fa, levatevi, levate gli social, cioè manco affiancateli a un social media manager, bravo, ma levategli, cioè non basta. Si deve fare qualcosa per questo. Ci vuole l'esorcista. Poi sai, lui fa anche delle scelte, tipo andare dalla D'Urso più volte, cioè, ringraziare tantissimo. Non lo so, è così. Siamo, noi che siamo, abbiamo la puzza sotto il naso, peraltro è stato lui a spiegare perché non bisogna più votare il PD, cioè da segretario di missionario. Ha detto delle cose terrificanti. Io non mi sono mai permesso di dire neanche quando era rabbiatissimo. Quindi siamo al paradosso che il segretario del PD dice, spiega perché il PD è invotabile ed è un progetto che è fallito addirittura anni fa. Pensa un po'. Si è civatizzato Zingaretti, tutto su un tratto, di colpo. Pange. Eh, vabbè, ma in ritardo. E comunque non è il civato che vogliamo, diciamo. Non lo so, adesso questo io non mi permetto. Quello che vogliamo noi due almeno. Allora, io sono uscito dalla politica seriamente, non ho accettato nessun sotto incarico, ripiego. C'erano tutti che sui social mi scrivono adesso vai a lavorare, basta, fa cazzo, figa. Cioè, perché erano simpatici, mi volevano bene tutti e quindi mi sono messo a lavorare. Ho aperto una casa editrice che ovviamente fa cose molto politiche, in senso buono, in senso molto elevato, più possibile, no? Più riusciamo a salire meglio è. E veramente sono, mi sento fuori dalle bolle. Sono anche fuori dalle balle, tra l'altro, tecnicamente. Questo è stato un sollievo per molti, credo. che sono terrorizzati, che invece io dico, adesso torno a incontro di voi. Ma terrorizziamoli. Terrorizziamo qualcuno, perché forse manca bello. Ma io ho già detto che, torno su tre cose, che sono il clima, la progressività e la patrimoniale. Cioè, anche un mantra, io penso che con l'ipnosi si possano cambiare le cose. Quindi, con un pendolo, anzi adesso devo procurarmi, avete dato un'idea geniale. Adesso mi procuro un pendolo. Procurate un pendolo, assolutamente. Mi procuro un pendolo. Lo d'inception. Esatto, adesso me lo segno, pendolo. Perché sennò me lo dimentico. Ormai sono anziano, sono più giovane, come una sardina cintillante. Con il pendolo, se voi fate così, e dite clima, progressività, patrimoniale, qualche risultato lo ottenete. Per esempio, Zingaretti, da quando ho iniziato a fare così sui social, ha iniziato a parlare di progressività. Io ero in dieci anni che la chiedevo. Però bisogna avere pazienza con questo paese, no? Non è che arrivano subito le soddisfazioni. È un po' come la Champions per la mia squadra, è un po' come lo scudetto per il Napoli, è un po' come la Serie A per il Torino. Insomma, ci sono tanti fenomeni, no? Molto raramente, diciamo, nella comunità di Alley. Ecco, dopo di... Allora, adesso stiamo provando un clima. Anche se hanno messo, nel nuovo governo di strafighi, hanno messo uno che non c'è niente, che c'ha delle idee sbagliate. Spero che non lo ascoltino. Quella è la transizione... Come si chiama? La transizione... L'estero della transizione ecologica. Quella cosa va, bravissima. Beh, capito, parlo di mettere uno che vuole quella transizione, no? Che parla bene del nucleare, dei fossili, dei gas, perché loro non ci siamo capiti. Cioè, non chiedevo Greta Thunberg, però neanche il contrario. Cioè, Greta Thunberg chiede l'incontrario come un messaggio satanico. Cos'è sta roba? Cioè, quindi, prima ci proviamo. E poi la terza cosa è la patrimoniale. È perché tutto il peso, e lo so perché è un SRL, prima stavo nei dibattiti di revisione, c'è cosa ne sai tu che non l'hai mai lavorato? Io l'avevo già lavorato, ma è impossibile, no? Il politico non lavora, secondo una certa tradizione. Adesso che ho una SRL, vi posso dire che mi ha appena aggiunto la notizia di un acconto del fatto che abbiamo un surplus di IVA che ti salva la vita, perché stai continuamente pagando F24, bollette, cose, se lavori. Se invece stai in un bambino, con i sali, e hai magari due casette della zia e della nonna, sei a posto, perché nessuno ti viene a rompere le scatole. Questa cosa non può andare bene. La patrimoniale serve soprattutto a questo, ma serve soprattutto per i redditi e le ricchezze molto alte. Ed è incredibile che siano contrari alla patrimoniale quelli che non hanno la casa, manco la macchina, non hanno neanche, come dire, il milione di euro di patrimonio sul conto corrente, non ce l'hanno, e sono la stragrande maggioranza, evidentemente, le persone, sono contrari. Invece io sarei per tassare le rendite e ovviamente usare quei soldi, spiegando molto bene perché cosa si usano, ed eventualmente detassare il lavoro, che invece è un massacro. Questo è il punto, perché mi piacerebbe anche muovere il paese in una direzione diversa. Si fa in Francia per dire, non è che sta parlando di... Si fa in Germania con la successione, si fa in un sacco di paesi normali. Pippo, una delle critiche che viene fatta di solito, magari anche superficiale alla patrimoniale, è vabbè, però è il vecchietto che c'è la casa di proprietà, è vabbè, però è l'imprenditore che poi investe e crea lavoro, è vabbè, però è il lavoratore che guadagna tanto lavorando e spaccandosi la schiena, perché gli devi tassare quello che si è messo da parte? È un problema di comunicazione, cioè nel senso che la gente non capisce che magari non ci rivolge a quelli. No, è un problema di comunicazione, perché quelli che ne parlano di solito sono quelli che dovrebbero pagarla, no? I direttori di giornali, politici, imprenditori... No, non è una valutazione. È così che funziona. Però ho scritto un libro... Ho scritto un libro che si chiama Tax the Rich, che è appena uscito con Davide Serafin, che fa i conti. Io dico minchiate, lui fa i conti giusti. Allora, il problema è tassare ricchezze sopra il milione di euro, e già togliamo metà di quelli che hai citato tu. E soprattutto fare in modo che sia alleggerita la partita, come dire, fiscale, proprio per chi invece investe. Era l'esempio che facevo prima. Se apri una SRL, ti suicidi. Se mantieni, come dire, una casetta o due, sopravvivi. È un paese che sopravvive. Infatti, una delle cose più incredibili è stata la movimentazione del mercato immobiliare sulla questione dei bed and breakfast, perché io abito a Verona e c'era, come dire, un bed and breakfast in ogni angolo. Adesso, con il Covid, molti si sono chiesti se non ti danno in affitto, ovviamente temporaneo, no? Perché aspettano che torni il bed and breakfast, giusto. Però anche su questo, noi non siamo riusciti manco a definire una tassa e farla pagare su chi fa questo tipo di operazione. Perché questo paese, come dire, è andato avanti per anni a discutere di quale fosse l'aliquota da mettere su questo tipo di attività. Capite che c'è un giochino? Come si fa a non capire? Vi faccio un ultimo esempio. Il catastro risale a quando sono nato io, che come vedete ho 80 anni, assomiglio sempre di più a Kurt Vonnegut, quindi sono giovane. E la riforma del catastro andava, l'avevano finita nella scorsa legge. Io c'ero. C'era Renzi Premier, penso un po'. Ti ricordi quando c'era Renzi Premier? Quasi bei tempi. Quasi bei tempi. Non esageriamo. Ho detto quasi. Non diciamo cose che non possiamo dimostrare. Esatto, perché oggi è incazzatissimo, querela tutti, un'altra trovata. Sta venendo un'altra parola, quindi iniziamo per troppo, ma è una trovata. Dicevo che Renzi era Presidente del Consiglio e c'era un compagno, si dice ancora così, del PD, che si chiama Marco Causi, che è un professore di economia molto bravo, che aveva finito la riforma del catastro. e uno dice, micchia, c'era chi cosa sta dicendo. Ma è vero, Solo che, siccome si stavano facendo le riforme costituzionali con Berlusconi e con Verdini, a cui dedichiamo poi un momento di raccoglimento, diciamo, per le sue vicende extra politiche, si bloccò. E sapete chi fece la dichiarazione che bloccò la riforma del catastro? Maurizio Gasparri. Questo è questo paese. Allora, non è che applausi, però capito, è così. No, no, io infatti volevo passare alla domanda, perché così se superiamo Gasparri, perché su Gasparri uno si deve per forza, cioè, cambia argomento, se arrivi a Gasparri, cambia argomento. Dacci, perché tu prima hai sbagliato l'argomento, se arrivi a Gasparri. Tu prima ci hai dato le tue tre priorità, no? E ci hai detto clima, patrimoniali. Io adesso ti chiedo tre motivi pratici e concreti, non ideologici, per non sostenere il governo Draghi. Tu sei stato un po' critico all'inizio, poi dopo con la composizione del governo ancora di più i sottosegretari e avevi ragione. Però, tre motivi per cui dovremmo, non lo so, non essere felici che sia arrivato Draghi a sostituire Conte e che si speda, magari faccia qualcosa di diverso. in realtà, io però che sono un animale strano, come sai, non dovendo più votare le fiducia, che per me erano sempre difficili da votare, come si metterete, io non sono così manicheo, perché ci sono tanti motivi per essere scettici e tanti motivi per sperare che certe cose ne azzecchi. Quindi è più da, se vuoi ti do dei motivi, però è contro all'una e l'altra cosa, se mi consenti di sviluppare un ragionamento più articolare. Allora, sicuramente quelli che, come dire, si erano affezionati troppo a Conte sbagliavano e secondo me Draghi ha per tante ragioni più peso e più utilità, anche perché stiamo vedendo che alcune critiche che erano rivolte a Conte non erano così campate per aria, questa vicenda dei vaccini, il protagonismo di Arcuri, un certo, come dire, una gestione molto politicistica in questione che invece riguardavano la salute dei cittadini, insomma, diciamo che non rimpianco, visto che Bersani voleva addirittura fare il partito dei Conte, spero che abbia cambiato idea, vedo strane convergenze, no, però è così ragazzi, poi faccio lo spirito ma dico sempre cose di sé, non so se non è così, purtroppo è così. Quindi, il passaggio a Draghi di per sé non è una tragedia, l'allargamento della maggioranza è invece inquietante anche perché Salvini per esempio oggi si parla di lockdown e Salvini dice col cazzo che si fa il lockdown, no, dovete passare sul mio cadavere, poi dopo magari come noto cambi idea, perché Salvini è diventato europeista, avete visto, antisovranista a favore dell'euro, ha anche smesso, secondo me ha anche smesso di frequentare certi posti perché è sempre un posto picciato, è diventato più istituzionale, però quanto dura sta cosa perché poi come sapete arriverà una campagna elettorale dopo l'elezione del Presidente della Repubblica e l'elezione del Presidente della Repubblica è fra un annetto e quindi insomma stiamo attenti con i tempi della politica quindi un motivo favorevole e uno contro non mi è piaciuta la composizione del governo non ci dovevano stare i politici non ce la fanno non riescono a starci dentro diciamo cioè non ci sono scusate a stare fuori dalle bolle devono stare dentro le bolle e questo secondo me ha viziato moltissimo la credibilità di quel governo lo dico sinceramente al di là dei nomi perché poi uno fa la caricatura di ciascuno però è chiaro che se io non metto nessuno non ha nemmeno Brunetta e la Gelmini se io non pretendo di mantenere un posto non ho di mai ho ancora il Ministero degli Esteri che oggi ha fatto un'intervista su Avvenire che uno non so veramente cioè più che il Ministero degli Esteri è il Ministero che ti invita ad andare a vivere all'estero diciamo diciamo che ha più credibilità il vaso degli Esteri di propaganda che non il Ministero esatto è un Ministero ottativo che ti invita ad andare all'estero diciamo di maio in ogni paese comunque facciamo una parola perché se no ti imprigionano ti torturano e nessuno scopre la verità dopo cinque anni lo stesso per Zacchi lo stesso per mille altre situazioni in cui boh noi dormiamo ma quindi va bene quindi va bene il governo tecnico secondo te no se si fa del governo del Presidente che è una bella espressione tra l'altro Mattarella quella sera lo spiegò facendo tipo il VAR no? spiegò la migliora cioè sembrava una cosa per persone problematiche non la spiegava proprio scandendo le parole si faceva il tutorial da wiki out tipo il wiki out del governo del Presidente siccome non siete riusciti a trovare la quadra vi spiego io come si fa diciamo e quindi glielo spiegò ed il governo il Presidente si basa evidentemente sul riferimento politico dei tecnici puri non esistono Draghi non è puro perché Draghi è un uomo che viene da un mondo e ha frequentato ambienti ed è stato vicino a persone cose fondazioni adesso non sono dietrologo perché lo sanno tutti lo stesso possiamo dire io per esempio ho una grande estima di Enrico Giovannini che è un ministro del governo Draghi che ha frequentato altri posti altri luoghi e io mi fido di più di lui per dire di altri è chiaro che Giovannini è un po' più di centro-sinistra Draghi di centro-centro-destra come ideologicamente se dobbiamo tirare una riga sapete fare i compassi eccetera se però i ministri sono indicati così evitiamo di riproporre a me sembrava l'All-Star Game degli ultimi vent'anni quel governo lì ma posso dire a meno c'era Lebron James nell'All-Star Game però scusami appunto senza Lebron James però se mi bruci le battute va bene che siete brillantissimi però sta variando lì diciamo perché rompiamo le bocca ti faccio la ribattuta Michael Jordan perché i tempi erano quelli là capito no davvero non sto scherzando io sono tornato un ragazzino cioè quando mi dai una gelmini io ritorno a quei tempi in cui facevo io stavo al liceo con la gelmini io stavo al liceo ho capito esatto quindi sei tornato sei tornato ai bei tempi della maturità e quindi per dire che non è che c'è una preferenza però se si fa una cosa è meglio farla così aggiungo un terzo elemento che non mi piace e che allo stesso tempo mi auguro venga sistemato presto non c'è un programma a sto governo che è l'abitudine di tutti gli ultimi milioni di governi in questo paese è una roba che a me fa impazzire perché il programma di governo deve essere che non è il patto di governo in cui ci sta dentro tutto sparate senza soldi cioè devono essere esattamente come il clima di progressività patrimoniale per capirci adesso mi cito per prendermi in giro però devono essere delle cose molto chiare che vengono definite in modo strategico scusatemi non ti preoccupare quindi secondo te un caricabatteria questo telefono se no ci abbandonerà sul più bello nel frattempo che attacchi il caricabatteria ti chiedo che mi collego a questo quindi il discorso di Draghi alla Camera del Senato per te non aveva nulla di programmatico anche se per l'archissima linea troppo vado allora di alto profilo perché l'uomo ripeto è di altissimo profilo e nessuno discute perché poi bisogna avere anche un po' il senso della misura qui c'è gente che non ha veramente non sa neanche da dove si incomincia Draghi invece è uno che ha un'esperienza internazionale non mi rappresenta politicamente però insomma nessuno può dire che non è preparato ho letto ho citato Bizzardi che fece un post fenomenale gente che ha sempre rivendicato di non saperne niente che se la prende col curriculum di Mario Draghi cioè i pazzi proprio no? i pazzi furiosi però appunto se ti presenti magari è una strategia per quello che dico per ora sostendo il giudizio è una strategia essere così umbratile non farsi vedere non dichiarare mai non avere quello che il fatto che non abbia i social francamente c'è anche 80 anni quasi adesso anche questa roba mi sembra che scopriamo chi è stato in classe con Draghi che ha giocato una volta a tennis ma Magali 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 è la risposta in realtà però fa un po' l'effetto fa un po' l'effetto ti ho voglia di cambiare capitolo del canale perché a me interesserebbe invece cosa succede nei prossimi sei mesi con però e questo è l'ultimo punto la grazia che appunto uno non si alzi e dica no perché se esagerate con la progressività che piace a Zingaretti diciamo così o al PD negli ultimi 15 giorni io mi sfilo e no se fate la legge elettorale mettete a posto questo schifo atomico del Rosatellum stavo dicendo Porcellum ma stessa cosa ma era un lapsus Rosatellum fatto dal PD e da Ettore Rosato firmato diciamo nella fase finale tramontante del Renzi disperato diciamo la fase 2017 diciamo così dopo la sconfitta referendaria però se dopo quello non gli va bene il sistema elettorale rinnovato ci teniamo il vecchio capito e tutto va avanti così tutto fino a incartarsi come capitò un altro che si presentò in una situazione diversa perché lui doveva chiedere soldi invece Draghi dovrebbe darne anche se sappiamo che la recessione colpisce molto attenzione perché tutti questi soldi ricordano i plan però guardate fuori dalla porta di casa diciamo cosa sta succedendo in questo paese per cui non so quanto sia diversa la situazione con Monti però devo chiedere oggettivamente ecco se vi ricorderete io adesso vi raccomando una cosa che non ho mai detto forse in pubblico ad un certo punto io chiesi che il governo Monti durasse solo fino a giugno perché ero certo che avrebbe non ero in Parlamento ero un libero battitore e scrive a Ezio Mauro che era direttore di Repubblica dicendo guardate lo scrivo con umiltà ma secondo me se scavalliamo l'estate è un pasticcio e Ezio Mauro che è una persona che stimo molto spesso ha una risposta molto sobria è la cosa più stupida che abbia mai letto mi scrive mi scrive non era così stupida ma Ezio Mauro non era così stupida perché da allora se vi ricordate la stessa discussione che rischiamo di fare la prossima estate la facemmo perché Monti poi si fece il partito perché poi non ci si disincagliava dalla presidenza della Repubblica che Monti voleva diventare presidente della Repubblica però partecipò alle elezioni no e voleva addirittura diventare presidente del Senato da premier ti ricordate cioè un disastro epocale il PD perse miliardi di voti scegliendo di fare come sempre la forza più responsabile più centrista più moderata io ho una cosa che mi viene in mente è che a furia di richiamarsi all'essere responsabili poi a un certo punto i cittadini dicano sì è vero siete voi i responsabili cioè proprio nel senso di dire è colpa vostra e questo mi porta ad un'altra domanda che insomma abbastanza pertinente io ho l'impressione che sono due domande da una parte mi sembra io ho una storia di militanza nei partiti della sinistra ma mi sembra che in generale centrosinistra la sinistra si sia sempre più interessata a far perdere gli altri o impedire la vittoria di qualcun altro anziché di vincere in qualche modo per sé però faccio anche un'altra considerazione in realtà tante delle battaglie soprattutto ovviamente quelle per l'estensione di alcuni tipi di diritti tra gli anni 60 e 80 si sono ottenute senza in realtà aver mai avuto una vittoria epocale no? cioè il partito comunista non ha mai ottenuto una una maggioranza di governo eppure cioè da una parte vedo che si va tutti a performance sulla vittoria snaturando anche molti dei propri temi dall'altra parte però la vittoria è più focalizzata nell'azzoppare gli altri che nel correre per i fatti tuoi cioè in questo cioè perché succede tutto questo magari tu che hai una visione un po' più dall'interno ci puoi ci puoi illuminare o almeno hai un'idea tua dato che giochi a questo gioco hai giocato a questo gioco per un po' insomma beh allora qui c'è mi hai fatto una domanda avete tutta la notte io poi a un certo punto vi devo salutare per via la bevissima però noi stiamo qua non ti preoccupare se lui dirigesse un grande giornale avremmo un paese diverso allora la domanda si compone di tante questioni che cerco di nocciolare la prima l'argomento di fermare gli altri noi di possibile diciamo sempre chi ferma è perduto perché questa stronzata che bisogna fermare Berlusconi non è una stronzata cioè l'idea che l'unico motivo di qualsiasi cosa sia fermare l'avversario è perdente perché a quel punto vale tutto facciamo un'alleanza con tutti e infatti facciamo l'alleanza con tutti poi di fatto è perdente perché non ti impone nessuna proposta noi fermiamo le idee noi stiamo fermando Berlusconi cos'è che vuoi di più della vita stiamo fermando le destre poi adesso siamo al governo con le destre cavoli manca la Meloni ma viva pure la Meloni fa niente non ci piacciono i fasci però in che caso così il meccanismo di fermare come è stato fatto in Emilia Romagna alla fine disinteressa ci fa disinteressare tutti quanti io in Emilia Romagna ho fatto votare Bonaccini sia chiaro non ho fatto il matto però ci allontana dalla questione che sta facendo Bonaccini in Emilia Romagna a nessuno e lo sa più non è più un argomento abbiamo fermato Salvini e la Borondoni che peraltro fa la sottosegretaria di Franceschini così si chiude proprio un cerchio magico diciamo una che si vantava di non leggere un libro che è messa a fare la sottosegretaria alla cultura poi uno dice che per noi l'argomento lo usavo prima però chi ferma è perduto se fa solo quello seconda cosa è comodo stare dalla parte del sistema il PD è un partito di sistema nel senso che ha scelto dopo come dice un bellissimo libro di Canfora che credo si chiami La Metamorfosi che è appena uscito per i tipi di La Terza che vi consiglio di leggere poi in realtà spiega poco quello che vi dirò ma è la storia precedente ma diciamo che è una transizione poco ecologica dall'idea di un partito molto non eversivo sul piano costituzionale ma molto picco sul modello sociale fino a proporne un'alternativa al capitalismo diciamo così che non è poca roba è un impegno bello grossa costruire un popolo che pensa che tu debba cambiare il modo di vivere il lavoro i rapporti di produzione cioè una roba grossa da lì si è passati non a una forza comunque critica comunque innovativa comunque ehm radicale perché no? ci si aspettava che dopo aver parlato bene di Carlo Max uno gli rimanesse un po' di riflesso anticonformista no? ha una forza che sta al governo comunque ha un nome questo è un metodo è un lodo che si chiama Franceschini io lo chiamo sua Franceschinità perché Franceschini ha sostituito Angelino Alfano nel record mondiale dei governi di cui ha fatto parte e sarà il principale candidato per la presidenza della Repubblica e ce lo ritroveremo anche la prossima volta in un governo scommettiamo una pizza delle vostre che sono più buone che quelle che fanno dalle mie parti quindi è una scelta precisa infatti la scelta precisa porta a dire possiamo rinunciare ad Andrea Orlando Dario Franceschini e poi non mi ricordo al governo no? ehm non possiamo ci rinunciamo perché noi siamo lì noi siamo il governo e dobbiamo stare noi siamo il paese vi ricordate quando si si strabalava di partito della nazione che è proprio una negazione dell'etica politica e della sinistra di per sé perché la sinistra è chiaro che vuole rappresentare il paese ma anche come dire qualcosa di diverso rispetto alla realtà se no ci teniamo Casini cioè se no Casini esatto esatto ma infatti Casini candidato per il PD nella circoscrizione di Bologna si tiene completamente tutto Pippo ci sono visto che tu hai fatto la domanda più bella di tutti i tempi però l'ha fatta lui quindi l'ho scritta io però la risposta non è lo so ma voi siete ormai si si vocifera di rapporti strani tra di voi e che sta no 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 nel senso che non sarebbero neanche strani sono rapporti di affetto in ogni caso ok non vogliamo saperne di più scusate se ho introdotto questo argomento che già mi sono sposato tre giorni fa però vabbè ho appena pubblicato un libro di Willy Picotta che sta litigando con tutti ci manca di litigare pure con voi insomma magari ne lo mando che fanno pianta una polemica anche qua scherzo perché Willy poi ci sta male però oggi si è autocriticizzato diciamo anzi non oggi tre giorni fa si è autocriticizzato e quindi ha preso anche il premio dell'autocritica di Sanremo finisco solo con una battuta la composizione di questi due elementi cioè fermare gli altri che vuol dire fermare se stessi impalarsi e stare là a tutti i costi nega la caratteristica più ovvia di un partito riformatore di sinistra quale esso sia perché se ci pensate un partito così non è di sinistra è un partito di centro è un partito non strategico interessa la tattica il palleggio a centrocampo diciamo è un partito sarrista senza nemmeno pressare poi perché ti tiene tutti dietro diciamo la linea è molto bassa infatti Mastella ci starebbe benissimo capito anzi la domanda è come diceva come ha detto bene Lundini nella una sola chiesa da Ceghevara Madre Teresa alla fine annichilisce tutto perché quello che dicevi tu è che anche dall'opposizione si possono cambiare le cose o comunque fare delle battaglie che adesso sembrano perse l'ultima la cosa più incredibile è vedere la mia proposta sulla tampon tax che è di ormai di cinque anni fa che adesso è diventata mainstream a me viene da piangere perché quando ne parlai io sembrava che avessi dato una minchiata tutti ridevano l'inzetto mattacò in prima sera cioè delle cose da matti adesso sono tutti a favore no? anzi fa figo dirlo poi non la fanno la legge però tutti raccolgono le firme no c'è un lavorio intorno agli assorbenti quasi un po' mormoso voglio dire io che sono iniziato per primo ragazzi calma perché vi state occupando troppo degli assorbenti fate la legge non fate le petizioni nel supermercato c'è lo sconto fate una bellissima legge e perché non la fate se torni indietro nel ragionamento che ho fatto si spiega tutto magicamente senti Pippo ti faccio finire questo collegamento con quest'altra domanda perché ovviamente è il proseguo di quello che stavi dicendo tu hai fatto parte del centro-sinistra inteso come emiciclo del Parlamento e hai fatto parte del centro-sinistra in un momento in cui si provava a rivoluzionarlo adottamarlo eccetera eccetera perché il PD riesce ad allearsi con chiunque cani porci vegetali animali qualunque ma non riesce a fare squadra all'interno del proprio alveo di quello che sarebbe di competenza il centro-sinistra ci sono 17.000 partitini nel centro-sinistra magari mettendoli insieme facendo regression forse si può anche provare a far finta di vincerla un'elezione perché è più facile allearsi con il Movimento 5 Stelle che non con possibile o con intanto perché l'alleanza perché l'alleanza è di sistema anche il Movimento 5 Stelle è diventato di sistema nello stesso modo anzi con una velocità di trasformazione ancora più veloce su questo dovremmo ma poi ne rifacciamo un'altra diretta ancora un po' quando vuoi questo format piace mi siete molto simpatici e soprattutto il tuo amico non tu con le cuffie quell'altro cioè io volevo dirvelo tantissimo vabbè ma io potrei sottolinearlo che l'ho scritta io la domanda lui mi ha messo una sola e l'ha cancellata vabbè ho capito diciamo che c'è uno che lo scrive bene l'altro l'inter quindi facciamolo ancora io sono un grande attore d'altronde sono stato anche il suo attore feticcio il mio attore feticcio quando facevamo i cortometraggi da ragazzo vedi va tutto un po' così siete perfetti come coppia diciamo allora il punto è questo che intanto bisognerebbe rispondere ai whatsapp lo dico con una battuta però beatrice brignone che prima citavo come segretaria di possibile ha una conversazione con zigaretti da come potete immaginare noi ci si conosce tutti ci scriviamo anche se magari poi no io ho pensato ogni tanto ci scriviamo anche con Renzi perché tutti pensano che ci odiamo ma no è la politica che ci ha diviso ci sono un sacco di leggende di malizie in verità in quella chat però scrive solo Beatrice Brignone cioè zigaretti non ha risposto mai mai perché lui risponde solo alla dorsa esatto la battuta verrebbe facile ha risposto solo una volta con tipo con le mani con un emoji cioè adesso voglio dire è possibile un partito piccolo a parte che se vanno avanti così fra un po' diventiamo il primo partito perché continuiamo a raccogliere iscritti gente che si butta dalle finestre gente che ha bisogno di un'assistenza psichiatrica dopo tutto quello che ha visto in questi ultimi sei mesi abbiamo più iscritti di quando eravamo partiti con entusiasmo nel 2015 quindi però non puoi non rispondere perché dico questa cosa che è vera cioè c'è una chat a senso unico se tu non costruisci relazioni politiche certo che con me è difficile parlare io mi vado là con un clima perché si vede patrimoniale non è che vado là per avere un possibile in Parlamento perché vi assicuro ho scritto un libretto che si intitola una meravigliosa posizione si sta molto meglio dal punto di vista personale fisico psichico si sta molto meglio a fare un altro lavoro si lavora meno che a fare i clinici ma figura si lavora anche meglio senza fare i militanti l'ho fatto per anni appunto sto molto meglio adesso mi manca un pezzo ma sto molto meglio adesso capite allora io se perché la complessità è quella che soprattutto nei confronti ovviamente rispondo per me non è che risponda per gli altri ma io vado con una con una serie di questioni che non sono legate peraltro anche la mia mancata elezione era determinata da quello e non chiedevo un posto per me chiedevo alla fine mi avrebbero forse dato non so ma non ho per pietà diciamo anche perché sapevano che poi avrei rotto i coglioni invece io mi sono defilato temiamo tantissimo che sarei stato il loro incubo però come sapete il conte di Monte Cristo aspetta tantissimi anni ebbè tu nel frattempo ti sei fatto crescere il baffo poi crescerà anche la barba come il conte di Monte Cristo e poi soprattutto cambierò mi travestirò mi trasformerò però il concetto fondamentale è che io quando litigai sulle liste con Leo che dovevano essere quelli boni era perché vedevo delle oscenità e volevo che fossero candidati nei collegi che era un sistema era criminale a cui oggettivamente un po' di trucchi bisognava farli per forza non sapevi chi avresti eletto però c'era un limite dovevano essere solo 5 le persone preservate sono diventate un numero spropositato hanno fatto le liste con la pasta sfoglia per cui mettevano sempre una donna capolista per far scattare il secondo che era un uomo perché tanto lei la eleggeva una troccia delle cose che mi avevano vi racconti e li hanno fatti quelli buoni che non avevano votato la legge che avevano un modello di società diverso e di politica diverso in mente alla fine io non è che andassi via a dire ragazzi ci va ti deve stare in Parlamento se no è un posto triste andavo a dire forse leggiamo in me i tuoi i vostri scegliamoli in modo diverso io ho tantissime persone che avrei candidato non perché erano vicine a me ma perché erano fighissime vi ne cito una con questo facendo un bellissimo progetto per dare finalmente la terra a chi si è liberato allo sfruttamento nell'agropontino si chiama Marco Mizzolo è stato salutato e onorato con un premio dal Presidente della Repubblica noi non l'abbiamo neanche candidato perché avevamo un sistema in collegio che uno che se no non veniva eletto a Bolzano diviso Torino moltiplicato Pisa ma questo è un po' il segno dei tempi anche se tu l'hai vissuto qualche anno fa cioè di questo desiderio assurdo di smantellare la competenza cioè qui in questo paese negli ultimi anni soprattutto a causa di una certa comunicazione del Movimento 5 Stelle ma non solo anche della Lega le persone competenti anche di Renzi anche di Renzi io ricordo benissimo Renzi comunque le persone competenti le persone competenti sono il male assoluto i tecnici sono dopo Monti sono diventati tutti quanti nosferatu e quindi vanno lì e creano i soldati sono poi non si va nel merito ci sono un sacco di persone competenti che quando aprono bocca soltanto perché sono competenti vengono demonizzati ma il paese chi cazzo lo deve gestire le persone competenti o i coglioni come Federico io non mi darei neanche la reggenza del quartiere voglio dire che è anche difficile perché è diventato così difficile far avanzare le persone competenti non lo so perché in realtà è una strategia anche questa perché se tu abbassi il livello rimani lì tu c'era la famosa barzelletta che D'Alema amava raccontare che ci c'è il comitato centrale del PC bisogna eleggere un nuovo membro e allora ne scelgono perché uno non c'è più va uscito dal partito insomma un posto vacante per usare la terminologia attuale allora tutti i dieci cento che ne fanno parte scelgono uno che è un pochino più scemo di loro perché hanno paura che dopo entrando nel comitato centrale possa prenderne no? assolutamente controllo esatto e così questo meccanismo si ripete per tante volte quanti sono i membri e D'Alema che era autobiografico ovviamente a un certo punto dice alla fine sono tutti scemi totali e sono talmente scemi che ne leggono uno buono che diventa un grande leader politico però speriamo che vivi appunto stiamo aspettando da un po' diciamo per dire come il tempo non passa mai D'Alema si è dimesso nel 2001 da ogni incarico diciamo il ministro degli esteri nel 2000 cioè noi stiamo parlando di di uno di un'altra e che però alla fine vedrete che l'anno prossimo quando c'è da votare il presidente sarà in campo come fu in campo con i quando ci furono i centri a Napoli sei candidato sindaco di nuovo Bassolino dopo 25 anni perché Pippo io ti voglio far chiudere anche perché so che hai altri impegni non ti voglio far andare lunghi e quindi ti diamo tutto il tempo che vuoi fin quando non ti scappa via la babysitter se ho capito e devi andare parlaci di Patrick ti diamo tutto il tempo che vuoi perché sappiamo che è una battaglia che tu porti avanti da un anno e passa ogni giorno c'è un tuo tweet maledetti ve lo ricorderemo ogni giorno quindi noi ti diamo il nostro spazio per quello che può servire per parlarcene spiegarci chi è che cacchio è successo e perché è importante parlare intanto è importante parlarne perché una delle cose che la politica si è dimenticata è che l'umanità delle persone il loro corpo la loro dignità è l'unica cosa che conta davvero non vincere come dicono gli juventini con quello slogan che porta sfortuna l'unica cosa che conta non è vincere a tutti i costi come abbiamo detto finora è salvaguardare la dignità e il rispetto delle persone delle classi lavoratrici insomma mettete ognuno ci metta la sua preoccupazione e nel caso di Patrick Zaki c'è un elemento in più perché è vero che non è italiano ma fa parte della nostra comunità tra l'altro io sono stato ammirato tantissimo dalla risposta di Bologna dell'università ho molto apprezzato un coro che si è elevato molto sincero e davvero da compagni di classe da colleghi di studio insomma come potremmo fare noi se uno dei tre fosse nei guai dopo una conversazione come questa molto amichevole non ti sentiamo più è arrivata una telefonata maledetta dicevo che l'amicizia che dovremmo nutrire far valere sulla sempre prima di ogni altra cosa sulle questioni internazionali come sulle nazionali penso anche alla partita dell'immigrazione alla Libia ce ne sono tanti di casi che potrei evocare quella amicizia invece è spostata sugli interessi sempre allora io non è che sono scemo non so che con l'Egitto abbiamo un sacco di questioni aperte gigantesche però pretendo che prima di firmare contratti dell'Eni parlo di persone cose che si mangiano che si capisca prima che la nostra industria come dire il pacchetto bellico che comunque in Italia sarà sempre fortuna perché tutti questi governi hanno cambiato di una vita la spesa come dire per gli armamenti abbia bisogno di vendere le armi a chi le usa no? noi le usiamo meno e allora le vendiamo a regimi che le usano peraltro in contrasto con una legge che fece il governo Andreotti nel 1990 la legge 185 che vieterebbe perché a questo punto nessuno l'ha mai rispettata di vendere le armi a paese in guerra o che non rispettano i diritti umani pensate un po' sembra fatta apposta diciamo no? per tutte le cose che sto dicendo ecco abbiamo venduto le fregate che si chiamano così fa anche un po' satira a Natale cioè a Natale è uscita la notizia che noi capito per festeggiare il Natale invece dello spirito di amicizia degli amici di Patrick di Bologna noi abbiamo dato ad Ansisi le fregate così abbiamo fatto quello in modo vedete per la Libia così facciamo sempre e quasi sempre dalla parte sbagliata incredibile sullo scacchier internazionale ecco io pretendo che prima di tutte queste schifezze o prima delle cose che non possiamo non fare perché il gas il petrolio sono ancora necessari io spero per poco anche per questo parlo di prima così ci liberiamo di sceiti sauditi amici di Renzi scherzo Matteo non mi querellare però lei è andato là è felicissimo quando l'ha incontrato è amico proprio nuovo rinascimento a me il nuovo rinascimento non piace ne vorrei proprio un altro tema un altro momento storico un'altra era proprio geologica nella quale facciamo delle cose che ci liberano e ci rendono indipendenti da questi sistemi di potere nel frattempo che non si può fare dall'oggi al domani pretendo che non si dicano le solite cose rituali ma che si vada in questi paesi a dire se non cacciate la verità su Giulio Reggeni se non liberate Patrick non gli fate finalmente un processo noi le fregate non ve le vendiamo faccio un ultimo esempio per spiegarmi che sono dato lunghissimo io a mia volta mi scuso non ti preoccupo quando Erdogan ha invaso il Rojava non si è il Kurdistan iracheno non si è levata una voce se non come dire quella mia quella di altre non contano niente l'Europa ha blandamente fatto sapere che era un po' infastidita ma io trovo incredibile e inconcepibile che dopo avere fermato il terrorismo per tornare alla domanda di prima ci siamo impegnati tutti per fermare i terroristi noi non siamo andati non dico a salvare ma a fermare lo scempio di quelli che avevano fermato davvero fisicamente il terrorismo e l'Isis sul posto non con gli editoriali sui giornali e con le intemerate in televisione anche su quello totale anzi l'unica persona se posso citarla è Di Marcucci che per essere andata a combattere contro l'Isis è considerata la stregua di una povera infighter e quindi è praticamente una formula che risale ai tempi del fascismo che è rimasta incredibilmente nel nostro codice nel nostro comportamento diciamo giudiziario lo dico pensando al tribunale di Torino che ha fatto questa cosa incredibile di confermarle i due anni stavo riferendo proprio a quello cioè quelli che lo hanno fatto proprio fisicamente che si sono messi in mezzo per dare una mano a chi stava contrastando l'avanzata dell'imperialismo islamista insomma di quello nero viene fondamentalmente chiusa in casa e reclusa in casa perché è una terrorista è terrificante questa cosa dal mio punto di vista esatto quindi la cosa che conta per finire poi vi devo salutare davvero perché mi trasformo in una zucca diciamo il punto è la persona umana se ci pensate che fa parte poi di tante tradizioni della politica del nostro paese anche quella democristiana per esempio a me piacerebbe però quella legge che citavo Andreotti era il governo Andreotti in martelli non è che sto chiedendo la luna erano super moderati diciamo erano pinta partito era grande tenuta un po' come adesso solo che almeno c'erano dei limiti adesso i limiti mi pare non continuano anzi sono vissuti con come dire come degli ostacoli ecco da non rimuovere contrattivamente l'articolo 3 della Costituzione italiana così finisco alla Gianni Cuperlo salutiamo il compagno Cuperlo Cuperlo è sdrucciolo Cuperlo 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 Pippo io ti ringrazio tantissimo per la disponibilità cortesia se vuoi tornare ma grandissima disponibilità quando vuoi tanto ti argomenti io volevo parlare di editoria ma non ce l'abbiamo fatta magari facciamo un'altra puntata è impossibile è impossibile però siamo a People la nostra casa editrice la cercate a casa editrice People come persone non a caso peoplepub.it se non ricordo male c'è un sito bellissimo un catalogo infinito ristano per uscire dei libri esagerati avete da poco pubblicato una rivista che siamo ossigeno se non ricordo male vedi io ti seguo davvero non come non come Federico che fa film poi si dica i complimenti poi si dica i complimenti poi si dica i complimenti il libro di Marco in tutto questo quindi cioè contribuisco attivamente è molto bello tra l'altro è molto bello comunque io stasera avevo una registrazione con la D'Urso preferito voi mi trattate così vabbè insomma la prossima volta farò delle altre farò un'inversione a D'Urso diciamo vai dalla D'Urso e candidati al segretario del PD e ci diamo no lo diciamo col cuore però lo annuncia questa sera fuori dalle bolle Pippo si candidati al segretario del PD qualsiasi annuncio lo farò da voi ecco promesso grazie sei molto grazie grazie Pippo a voi grazie Pippo buona serata buona serata grazie ciao a presto ciao 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 ciao